ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita un piccolo avviso un avviso velocissimo come alcuni di voi si saranno accorti le ultime due live le ho fatte soltanto sul canale viola perché perché sabato durante la serata horror ho ricevuto 7 8 notifiche di copyright per la musica del gioco e io mi sono stancato di questo calcolando che sul canale viola riesco configurare una live in 30 secondi anziché i 5 minuti che era la miniatura come faccio sul tubo la mia idea sarebbe quella di spostare le live lì anche perché la live che io ripubblicherò qui perché le più belle le ripubblicherò qui in una playlist dedicata avrà in pratica la riconoscerete perché non avrà la miniatura arancione ma sarà viola la live di ieri sera è una live interattiva dove voi utenti della chat avete scelto che cosa le scelte multiple di quel gioco e calcolando che tutte le live che vengono fatte sul canale viola sono interessanti perché ci sono tanti tool con cui interagire con gli utenti ed essendo appunto più facili da configurare ed avviare ho deciso di spostarle lì non prendetela come un tradimento perché il tubo resta la mia attività principale con i tre video soliti settimanali i vlog i tutorial insomma si continuerà così ma il canale viola ve lo dico perché così non sto lì a fare ogni volta la comunicazione sulla community insomma il post le live le troverete di là quindi se vi va passate di là trovate qua nel canale il link cliccando qui potete iscrivervi anche di là e avere le notifiche allora un po mi dispiace non farla doppia live ma a parte che non è ben vista sia dal tubo che dal dal canale viola è una questione di comodità e soprattutto di sbattimento non voglio prendere uno strike per il copyright anche perché the bunker una live in generale non devo parlare ogni due minuti spesso ci si perde via vedere il video la musica insomma e quindi voglio evitare problemi tra l'altro calcolate che io non farò delle live come non le ho mai fatte in cui vi faccio vedere gioco e basta si fanno anche quattro chiacchiere in su ogni genere di cosa insomma si parla del mondo di videogiochi se avete domande le fate insomma tutto molto chill quindi per le live al momento poi salvo non mi diciate tutti no non lo voglio nuovo falle qui falle qui però per questione di comodità 30 secondi mi va di andare live vado live ecco e lì le notifiche arrivano in genere quindi io vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima ciao 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 ciao